Ciao carissimi, quando si parla della storia di solito ci sono i dibattiti perché la storia viene vista, interpretata in modo diverso da diversi sia specialisti che divulgatori che semplicemente persone curiosi che approfondiscono vari eventi storici e creano la loro opinione e di solito queste opinioni poi diventano anche a volte luoghi comuni, quindi uno di questi luoghi comuni riguardo alla storia sovietica è legato a due figure molto importanti nel movimento rivoluzionario e anche nella formazione dei primi anni, dei primi decenni dell'Unione Sovietica, è Lev Trotsky e Josef Stalin. Si tratta di due personaggi che in un modo e nell'altro hanno fatto parte del movimento della rivoluzione, erano bolshevichi, facevano parte del partito guidato inizialmente da Lenin e si sa che uno ha fatto ammazzare l'altro, ovvero Stalin ha fatto uccidere Trotsky come noi ricordiamo il 21 agosto del 1940 nella città di Messico, è stato ucciso anche insomma con certa brutalità il Leone Trotsky, Lev Trotsky e la sua uccisione è stata organizzata, gestita e voluta direttamente da Stalin. Su questo molti specialisti si esprimono, la storia in grande linea e soprattutto qua in occidente, la storia revisionata da anglosassoni, noi viviamo in una situazione dove tutto ciò che avviene nel mondo viene proposto a noi attraverso il prisma dell'interesse delle anglosassoni. In questo anche un po' è la tragedia dell'Italia, l'Italia oggi è piena zeppa di vari finti esperti, finti storici, finti specialisti che raccontano agli italiani anche la storia del loro paese, anche dell'impero romano, del medioevo, molti lo raccontano attraverso il prisma di interesse anglosassone. Questa è una cosa veramente dannosa. Per fortuna ci sono gli storici onesti, ci sono gli storici obiettivi, ci sono gli storici che aggirano, riescono a girare questa gravissima influenza speculativa della storia e raccontano la storia per quello che è, come ad esempio Barbero, grandissimo professor Barbero. Però ci sono altri omunculi che pontificano dal divano della mamma raccontando le bagianate, ovviamente seguendo un filone propagandistico anglosassone. Questo filone propagandistico anglosassone ha creato un sacco di luoghi comuni della storia, luoghi comuni che sono delle vere e proprie idiozie che non si fondano su nessuna realtà oggettiva e semplicemente vengono raccontate, vengono narrate per distorgere l'opinione su ciò che sono stati i processi storici, sulle figure storiche e così via. Uno di questi luoghi comuni è legato a Josef Stalin e Leone Trotsky. Molti dicono che Stalin ha ucciso Trotsky perché ci aveva con lui per la successione a Lenin, ovvero la narrazione inglese, tra l'altro in diversi libri, diversi storici inglesi, ripropongono questa narrazione a mio avviso degradante, nella quale Trotsky appare come un principe bianco, un eroe positivo che doveva ereditare le redini del regno da un re morente che era Lenin. Qua bisogna dire che i storici anglosassoni sono molto legati anche a una forma di narrazione storica sempre legata agli schemi della monarchia, cioè se succede qualcosa nella società è solo perché c'è un cambiamento, c'è un cambiamento del potere, vecchio re muore, deve lasciare redini, quindi loro vedono il mondo in base a quello che è la loro degradante e pericolosa per tutto il mondo struttura, mentre in realtà nel partito comunista ovviamente non c'era nessun re, non c'era nessun principe bianco, la situazione era molto diversa, molto complessa, si può scrivere libri, anzi tantissimi hanno scritto libri su come è andata la storia sovietica in quegli anni e tutta questa narrazione inglese ovviamente non regge nessuna verifica, nessun incontro con la realtà oggettiva. Però intanto in occidente è arrivato questo forte messaggio, si è creato questo luogo comune, Stalin odiava Trotsky perché entrambi litigavano per l'eredità di Lenin, entrambi volevano essere successori di Lenin e quindi Stalin viene rappresentato come un cattivone che ha rubato il potere a un bravo, democratico, simpatico, rivoluzionario Trotsky. Tra l'altro molti sostenitori di Trotsky qua in occidente, non conoscendo bene anche la sua storia perché la storia di Trotsky è conosciuta principalmente dai libri che lui ha scritto, dove lui ha raccontato anche in maniera molto distorta quello che erano i fatti reali perché molti libri dei storici del bolshevismo, della rivoluzione smontano totalmente quella che era la narrazione di Trotsky. Io qua non voglio dire che Trotsky è un bugiardo, ognuno di noi ha una propria visione su quelli che sono gli eventi, però sicuramente i suoi libri, il suo punto di vista non era unico in quel grande momento storico che attraversava l'Unione Sovietica. Quindi perché Stalin e Trotsky si odiavano? Innanzitutto perché erano persone completamente diversi. Stalin proveniva dal proletariato, Stalin era veramente un proletario, cioè un povero figlio di un calzolaio, un ragazzo che ha studiato nel seminario, nel seminario ha scoperto la sua vena rivoluzionaria, ha capito tutta la pressione che il regime zarista, che la monarchia faceva sulla classe dei poveri e da lì è iniziato la propria ribellione che è partita dall'interno, da lui, cioè lui non è stato rivoluzionario, avvicinato dai comunisti, no, no, lui ha scoperto da solo la necessità di ribellarsi, ha iniziato a ribellarsi lui personalmente, pur di ribellarsi al sistema è diventato delinquente, era criminale, vero e proprio, e quando ho scoperto l'esistenza del movimento socialista comunista, da giovanissimo è entrato a far parte di questi movimenti, finché non è diventato uno degli uomini più importanti che all'epoca si occupava di espropriazione dei beni dei capitalisti, cioè lui armato, con gente armata, dirubava i capitalisti, faceva le azioni terroristiche, insomma era un militante vero del partito socialista che poi diventò partito comunista, bolsheviche e così via. Trotsky era un borghese, era figlio dei ricchi, ebreo, si chiamava Leoba Bronstein, Leoba Bronstein, lui è nato in una famiglia benestante, non è mai mancato niente, amava leggere, aveva i suoi vizi, si innamorava, lui si è avvicinato all'ambiente socialista perché si è innamorato di una ragazza, lui se ne sbatteva altamente di condizioni dei poveri, del proletariato, per lui potevano tutti morire, lui era una persona molto egocentrica, una persona poco simpatica, e soprattutto da giovane, tutti quelli che lo ricordano parlano male di lui, parlano della sua, come dire, questa natura piena di sé, solo che lui si è innamorato di una ragazza, questa ragazza era nell'ambiente rivoluzionario, una specie di circolo, lui è entrato in questo circolo, io adesso vi faccio breve perché la storia è molto più complicata, comunque in questo circolo lui comincia a avvicinarsi a quelli che erano, diciamo, borghesi con tendenze socialiste, ma non erano veri rivoluzionari comunisti, uno di loro ha fatto spia contro gli altri, sono stati denunciati, sono finiti comunque sotto processo perché nei tempi di zarismo contro queste cose reagivano abbastanza forte, e Trotsky non capendo neanche per quale cosa viene preso è stato messo in carcere, quindi la sua esperienza carceraria non era dovuta alla lotta vera e propria per bolshevismo, per comunismo, per proletariato, per le idee di eguaglianza nel mondo e così via. Lui è stato messo, diciamo, in carcere per errore, perché si è trovato in un ambiente di sinistra o quasi sinistra perché ha seguito una ragazza. Tra l'altro lui in tutta la sua vita non ha mai finito un lavoro di Marx, lui non ha letto Marx, lui non ha letto la base, è come dichiarare di essere cristiani senza aver mai letto neanche un pezzo di Bibbia, Trotsky non ha mai letto Marx. Questo tra l'altro hanno affermato diverse persone, lui non era in grado di discutere sulle teorie di Marx proprio perché mancavano le conoscenze. Trotsky quindi finisce in carcere e lì in carcere tra l'altro lui si interessa alla massoneria e da lì inizia il suo viaggio mentale in quella dimensione lì. Lui era più affascinato dai massoni che dai comunisti e nell'ambito del comunismo lui ha cercato di ricreare e di rivivere quello che avrebbe voluto rivivere nell'ambito della massoneria. Lui è stato avvicinato da Lenin, è stato promosso da grandi personaggi del partito comunista che all'epoca viveva in esilio in Europa proprio perché aveva radici ebraiche, è stato molto aiutato dagli ebrei, tra l'altro uno dei grandi ebrei che faceva parte inizialmente dell'ambito di socialismo, poi diventato un grande economista, un grande capitalista, un grande sfruttatore, un grande speculatore che vendeva le armi alla Turchia, faceva un sacco di cose stranissime che si chiamava Parvus. Questo personaggio rappresenta chiaramente quella parte del movimento socialista della fine del 800, inizio del 900, quando molte persone provenienti dall'ambito ebraico hanno usato il movimento socialista per distruggere quello che era il sistema che a loro dava fastidio e impediva a loro di realizzarsi nella società dal punto di vista capitalistico, cioè la monarchia zarista in Russia impediva agli ebrei di ad esempio vivere nei centri città, occuparsi di affari di banca, cioè gli ebrei che sono diventati banchieri in Russia hanno dovuto corrompere un sacco di gente, era molto difficile di avere permessi e quindi molti ebrei che sono entrati a far parte del socialismo non sono entrati lì perché volevano veramente aiutare ai poveri e perché si preoccupavano dell'uguaglianza nel mondo, loro volevano semplicemente sfruttare quel ambiente per ottenere la possibilità di realizzarsi dopo nel senso capitalistico. Parvus era uno di questi, Parvus che è stato un grande promotore di Trotsky, è stato quello che ha pagato tutti i concerti di Trotsky, Trotsky si esibiva nei veri e propri concerti, cioè faceva le serate, la sua forza era di parlare, coinvolgere il pubblico e lui li coinvolgeva emotivamente raccontando soprattutto del futuro, di futuro che costruirà il partito socialista e che costruiranno comunisti. Lui ovviamente non parlava mai di teorie, di ideologie perché non ne sapeva niente, non ha mai letto Marx, Trotsky leggeva altri libri, era una mente che amava fantasticare, era una mente non adatta alla terminologia con la quale si esprimevano economisti e persone come Marx, Engels e così via. Lui era più adatto ai viaggi nei mondi fantastici e di questo non c'è niente di male, questa è una cosa anche positiva in certo senso, però nel suo ambiente lui si rappresentava come uno che coinvolgeva la gente, mentre Stalin allo stesso tempo faceva il lavoro sporco per procurare i soldi per il partito. Quindi questi due personaggi che facevano due vie totalmente diverse durante la rivoluzione si sono trovati in Russia dopo la rivoluzione a dover gestire incarichi molto importanti. Ovviamente a Stalin, che era un vero comunista, ideologicamente era preparato, Stalin ha scritto diversi lavori legati all'ideologia comunista, ha scritto diversi lavori legati alle teorie di Marx, Marx si esprimeva anche su ciò che erano teorie di Lenin, quindi era in grado di mantenere un dibattito ideologico dedicato al comunismo, al capitalismo e a tutto il resto. Trotsky non era in grado di fare tutto questo. Trotsky era semplicemente un ragazzo ebreo che è stato in carcere, quindi per questo molti bolshevichi lo hanno preso a cuore perché hanno detto, guardate, è anche lui rivoluzionario come noi. Nessuno ha mai incolpato Trotsky di non aver letto Marx, Engels e grandi teorici del comunismo, anzi lui una volta a Lenin proprio ha detto che Marx è noioso, cioè Trotsky stando a casa di Lenin a Londra, soprattutto nei primi giorni della sua permanenza, quando Trotsky è arrivato da Lenin, tra l'altro Trotsky arrivò da Lenin con una carrozza, una specie di taxi e non aveva i soldi per pagarla, quindi quando è arrivato da Lenin ha detto scusatemi potete pagare il mio taxi, infatti Lenin ha subito pagato il taxi, poi Lenin nel suo diario ha scritto questo giovanotto ancora prima di presentarsi mi ha già chiesto i soldi, questa era un po' la natura di Trotsky e lui poi discutendo con Lenin ha detto una volta che Marx è noioso, Lenin se lo ricorda, Lenin in uno dei suoi diari racconta questo episodio, però Lenin riconosceva a Trotsky la sua grande capacità di attore, lui riusciva a parlare, coinvolgere il pubblico, coinvolgere emotivamente, riusciva a creare, sviluppare le visioni del mondo, del futuro, del socialismo e per questo loro lo lasciavano al partito, non era in grado di scrivere articoli, ha lavorato per diversi giornali, tutti gli articoli suoi facevano schifo, mentre ogni articolo di Stalin, Stalin quando scriveva articolo non gli scriveva tanti, però quando li scriveva diventavano comunque dei punti di riferimento per chi seguiva l'ideologia comunista, mentre articoli di Trotsky erano totalmente privi di qualsiasi base ideologica e Trotsky era un demagogo in grande linea, mentre Stalin era un teorico e pratico ed è vero rivoluzionario, per questo tra loro due dall'inizio non c'è stata simpatia. Stalin inoltre non ha amato Trotsky perché Trotsky è stato avvicinato da Lenin e ha vissuto tutta la bella vita in Europa, in Inghilterra, mentre è anche girato negli Stati Uniti d'America, insomma ha fatto i suoi giretti, mentre Stalin ha fatto tutto il lavoro sporco in Russia, è stato in carcere e Stalin ha perso anche la moglie perché la sua moglie quando si è ammalata di Tisi, Stalin ha chiesto a Lenin aiuto, ha chiesto a Lenin se può prendere una parte dei soldi della cassa comune del partito e Lenin le ha impedito di farlo e quindi questa donna è morta e Stalin il suo essere comunista era anche molto indurito, temperato da quell'esperienza lì. Lui dopo da tutti quanti, da tutti i comunisti chiedeva sempre di essere molto poveri, di non avere interessi personali per questo motivo nell'epoca staliniana se qualcuno dei grandi generali esagerava nel comprarsi una macchina troppo costosa oppure vivere in una casa troppo grande e Stalin lo eliminava subito, perché per lui essere comunista voleva dire soprattutto di possedere poco e dare tutto al popolo, lavorare per il popolo, per i compagni, per il partito. In effetti quando morì Stalin dopo di lui non è rimasto né conto bancario, i suoi figli non hanno avuto niente, lui non ha lasciato nessuna eredità a nessuno, lui ha lasciato soltanto due paia di stivali, due giacche, un giaccone militare e anche la pipa, lui ce l'aveva e poi fine. Queste erano le unici cose che lui possedeva, tutto il resto era di proprietà del partito. Ovviamente tra questi due, con indebollimento di Lenin, quando si è capito che Lenin è ammalato, tra questi due c'è stato un forte attrito perché Trotsky puntava di diventare il capo dell'Unione Sovietica, perché svolgendo ruolo di creatore dell'esercito rosso e conducendo l'esercito rosso nella guerra civile post-revoluzionaria, Trotsky pensava che lui diventerà successore di Lenin e condurrà la Russia, però durante la guerra civile le metodiche e le azioni di Trotsky erano molto mal visti da altri compagni, intanto Trotsky era troppo spietato, esageratamente spietato nei confronti dei militari. Si comportava, come dicevano stessi compagni, non come un compagno, ma come una persona che rappresenta una classe alta. Quindi a molti comunisti, a Trotsky, accusavano di aver creato una nuova classe sociale e questo ovviamente in un paese che lottava contro il classismo era un'eresia totale. Inoltre attorno a Trotsky c'erano persone, c'erano i suoi agenti, i suoi uomini fidati che tutti si sono contraddistinti nel rubare la proprietà di Stato, fuggire con i soldi, finire nelle storie stranissime come ad esempio vendere le informazioni agli inglesi, vendere le informazioni agli americani, fare gli accordi strani, fare spie e quasi tutti provenivano dall'ambito della nazionalità ebraica. Erano ebrei che si sono fatti una loro organizzazione all'interno delle organizzazioni bolsheviche e Stalin ha visto questa cosa proprio come una minaccia per il futuro del comunismo. Per questo quando Trotsky, con la morte di Lenin, cercò di portare dalla parte sua il potere, lui fallì miseramente perché la gran parte dei comunisti e il popolo totalmente era con Stalin. Trotsky non lo sopportavano più, lo vedevano come una persona che parla delle cose che la gente ormai non riesce a capire. Lui parlava di un futuro di cui loro non avevano più bisogno perché loro stavano già costruendo un futuro. E quello che proponeva Trotsky a loro, parlando di rivoluzione internazionale, tutto il mondo, tutti i collegati, loro intanto stavano ricostruendo il loro paese perché Stalin a loro ha dato le cose, i compiti concreti, mentre Trotsky continuava a polimezzare. Insomma così Trotsky fu prima stato costretto di abbandonare l'Unione Sovietica, lui ha capito che lo faranno fuori, infatti alcuni dei suoi grandi collaboratori sono stati fucilati, Stalin non scherzava perché Stalin come vero comunista di vita umana per lui non rappresentava alcun valore, per lui unico valore era l'equilibrio della società giusta e onesta dove ogni individuo doveva essere uguale all'altro, doveva avere diritti uguali agli altri, se saltava fuori uno che diceva no io sono diverso andava subito eliminato, liquidato. Questo era il senso del comunismo per cui Stalin nella sua brutalità aveva comunque la coerenza con le idee che portava avanti. ovviamente non sto giustificando Stalin, sto semplicemente spiegando che rispetto alla storia, rispetto a quello che era il periodo, Stalin era coerente con quello che faceva e con quello che diceva. E così Trotsky dopo la fuga cominciò a sputare veleno in Europa, nel mondo su Stalin, lui viveva come un capitalista, bisogna dire questo anche, perché quando lui ha fuggito in occidente, lui ha tradito totalmente quelli che sono stati i valori del comunismo, del bolcivismo, tanto che in Messico ce l'aveva pure la servitù, quindi io capisco tutto, capisco le necessità di vita, però se tu sei un comunista tu non puoi avere la servitù, se tu sei un leader del paese che lavora, che fa le cose importanti, va bene, ci sta, però anche Stalin comunque non aveva la servitù, la gente che lavorava con lui, lui rispettava come i propri compagni e erano quasi tutti militari. Lì invece Trotsky aveva una vera e propria servitù, poi insomma una persona anche dal punto di vista morale non è proprio all'altezza. Per questo Stalin ha fatto fuori Trotsky, non perché tra loro due c'era un litigio in base alla successione a Lenin, questa è una storia degradante che viene portata avanti dagli anglosassoni. Trotsky fu fatto fuori per due motivi principalmente. Primo perché era ebreo e rappresentava per Stalin un sistema corrotto fatto principalmente da ebrei che stavano mettendo a rischio quello che per Stalin era il progetto del comunismo, del bolshevismo in Unione Sovietica. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è Trotsky con proprie azioni, con propria presenza, stava compromettendo il partito comunista. Cioè Stalin capiva che lui è un avventuriero, Trotsky è un avventuriero della rivoluzione, lui non è un vero rivoluzionario. Per Stalin Trotsky era uno furbo scaltro che ha sfruttato il movimento rivoluzionario per danneggiare gravemente, pesantemente il progetto della rivoluzione perché seguiva i propri interessi personali. E questa in grande linea sono stati i motivi per cui Stalin ha fatto fuori Trotsky. Amici, se avete vostre idee, opinioni, domande da fare, per favore commentate questo video. Se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale e condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che di recente è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio nuovo libro che si chiama La guerra e l'odio. Questo è il terzo libro della trilogia dedicata alla guerra in Ucraina. Leggetelo, fatemi sapere quello che pensate. Vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene. Grazie. Grazie.